musica Siamo qui in questa piazza oggi con tantissime altre associazioni, associazioni a noi amiche, noi rappresentiamo l'associazionismo LGBT territoriale siamo Arcighe Leonardo da Vinci di Grosseto, Iagedo Toscana siamo qui sul territorio insieme a tutti gli altri per far sapere alle istituzioni nazionali, per far sapere ai nostri rappresentanti politici che vogliamo che partano dal primo passaggio per un percorso di equiparazione piena dei diritti delle persone LGBT di questo paese Una comunità non impara dagli orrori della propria storia Due di questo paese è un paese un paese Grazie.